Il derby del comunale di Nereto va come da pronostico al Castelnuovo che con qualche sofferenza di troppo nel finale conquista tre punti di platino in chiave salvezza diretta. Senza strafare i neroverdi hanno ottenuto il massimo risultato che permette ora di guardare al finale di campionato con meno patemi. Per la squadra di Del Grosso la consueta generosità non è bastata per evitare l'ennesimo K.O. stagionale. Nel tiepido pomeriggio Vibratiano si parte con gli ospiti subito propositivi. Bubalo infatti al nono approfitta di una indecisione di Diglio e compagni e con un pallonetto va a sfiorare l'incrocio con la palla che termina di pochissimo fuori. Si gioca senza tatticismi di sorta con la formazione ospite costantemente in avanti alla ricerca del vantaggio. Al ventesimo sembra fatta per il Castelnuovo con Bubalo che in area sbaglia però il dosaggio del pallonetto mandando la palla appena sopra la traversa. È un monologo dei Neroverdi che però rischiano al ventinovesimo quando Montano prova il gol della domenica con Natale che è attento e dice no. Al trentunesimo il Castelnuovo però trova il vantaggio con un tocco felpato di De Gidio che su cross di Sparvoli non sbaglia segnando il gol dello 0-1 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa al tredicesimo angolo tagliato di Cipriani per i padroni di casa con il portiere Natale che allontana il pallone con i pugni. Ospiti in controllo del vantaggio di misura con un nereto volenteroso ma spuntato. Il derby resta così tutt'altro che entusiasmante con le emozioni che arrivano con il contagocce. Le sostituzioni operate da Del Grosso e da Di Fabio non cambiano la sostanza del match del comunale. Al trentanovesimo Prestianni per il Castelnuovo se ne va sulla sinistra e crossa centro area per Bubalo anticipato in maniera millimetrica da Ferrini che mette il pallone in calcio d'angolo. Al trentanovesimo la formazione ospite resta in dieci uomini per il secondo giallo al portiere Natale che tocca il pallone con la mano fuori aria. Ingenuità dell'estremo difensore neroverde con Di Fabio che manda così in campo Scardillo al posto di Bubalo. Antonelli si incarica della battuta della punizione con il neo entrato secondo portiere del Castelnuovo che para senza problemi. Finale di partita vivace con i padroni di casa che spingono non riuscendo però a trovare il pareggio. Finisce con la vittoria del Castelnuovo che guarda ora la salvezza con maggiore fiducia. Di Fabio vittoria doveva essere, vittoria è stata, insomma sono arrivati tre punti importanti per la classifica per questa salvezza diretta che da oggi è più vicina. Vicina sicuramente che sono rimaste ancora quattro partite siamo tutti lì quindi ancora c'è molto da fare. Erano oggi importanti soprattutto i tre punti e quello che ho chiesto ai ragazzi è la prima volta che lo faccio di badare solamente al sodo perché ci servivano appunto questi tre punti. Il campo sicuramente non permetteva di giocare quindi non dovevamo essere belli ma dovevamo essere molto concreti e lo siamo stati perché magari un'occasione abbiamo avuto, cioè prima del gol un paio di occasioni mancate poi siamo stati bravi a non rischiare più niente a portare a termine questa vittoria che sicuramente è molto importante per noi. Il mereto io lo dico sempre a tutti bisogna fare i complimenti a questi ragazzi, allo staff, a tutti quanti perché vedo che ogni partita la giocano fino alla fine e meritano sempre qualcosa di più di quello che poi riescono a portare a casa. Federico Del Grosso, il solito nereto generoso, sono arrivati anche i complimenti sinceri del tecnico di Fabio, ci avete provato anche fino alla fine però questa squadra più di tanto probabilmente oggi non può dare. Non è oggi, purtroppo abbiamo dei limiti soprattutto nella finalizzazione anche perché i dati parlano, tanto cuore, tanta generosità ma non basta quindi come sempre non riusciamo a concretizzare quelle pochissime palle gol che in gara riusciamo magari a creare. Purtroppo è un'annata così quindi c'è tanto da recriminare però c'è anche tanto da salvare perché sappiamo tutti che le responsabilità sono di tutti e per questa annata purtroppo è iniziata male finita peggio.